Novena alla Madonna di Lourdes per chiedere una grazia. La novena della Madonna di Lourdes inizia il 2 febbraio e termina il 10 febbraio di ogni anno. Ma si può iniziare ogni volta che si vuole, purché sia sempre pregata per nove giorni consecutivi in qualsiasi periodo dell'anno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio viene a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della Tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei Tui fedeli. Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che è sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai Tuoi fedeli, che solo in Te confidano, i Tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato dalla stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno e risuscitato secondo le scritture. E salito al cielo, si è dalla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Quinto giorno della novena della Madonna di Lourdes. O Vergine Immacolata, dolce Madre Maria, che a Bernadette vi faceste vedere circondata da un celeste splendore. Siatemi luce, protettrice e guida nell'aspro sentiero della vita, affinché da esso mai non devi e giungere possa al beato soggiorno del Paradiso. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Vergine Immacolata, Madre nostra, che vi siete degnata di manifestarvi ad una sconosciuta fanciulla, fate che noi viviamo nell'umiltà e nella semplicità dei figli di Dio per avere parte alle vostre celesti comunicazioni. Accordateci di sapere fare penitenza per i nostri sbagli passati, fateci vivere con un grande orrore del peccato e sempre più uniti alle virtù cristiane, finché il vostro cuore resti aperto sopra di noi e non cessi di versare le grazie che ci fanno vivere quaggiù dell'amore divino e rendono sempre più degni dell'eterna corona. Amen. Chiediamo quella grazia che vogliamo ottenere. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Consacrazione alla nostra Signora di Lourdes. Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura della roccia di Massabiel. Nel freddo e nel buio dell'inverno hai fatto sentire il calore di una presenza, la luce, la bellezza, nelle ferite e nell'oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del mondo, dove il male è potente. Porta speranza e ridona fiducia. Tu che sei l'immacolata concezione, vieni in aiuto a noi peccatori. Donaci l'umiltà della conversione, il coraggio della penitenza. Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. Guidaci alle sorgenti della vera vita. Fa di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua chiesa. Sazia in noi la fame dell'eucaristia, il pane del cammino, il pane della vita. In te, o Maria, lo Spirito Santo ha fatto grandi cose. Nella sua potenza ti ha portato presso il Padre nella gloria del tuo Figlio, vivente in eterno. Guarda con amore di madre le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della morte. Con Bernadette noi ti preghiamo, o Maria, con la semplicità dei bambini. Metti nel nostro animo lo Spirito delle Beatitudini. Allora potremo, fin da qua giù, conoscere la gioia del Regno e cantare con te magnificat. Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore, Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Madre dei deboli e dei piccoli, di quelli che soffrono e sono soli, di coloro che sono malati e attendono di essere curati con amore e competenza. Maria, Madre di tutti gli uomini, di chi ha bisogno di aiuto nelle proprie condizioni di fragilità e di coloro che sono chiamati a prendersene cura. Grazie per averci dato Gesù Cristo, Medico del Corpo e dello Spirito, nome e certezza della nostra speranza. Buon Samaritano, chi si china sulle nostre ferite per risanarle. A te, Maria, con fiducia filiale, chiediamo di intercedere presso il tuo Figlio, perché, in qualsiasi condizione di fragilità e sofferenza, ogni persona si senta amata, curata e accompagnata in un cammino aperto alla speranza, che è data a tutti noi dal Signore risorto. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo per tutte le grazie che per mezzo della Madre Tua a Lourdes hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sofferente. Fa che anche noi, per l'intercessione di nostra Signora di Lourdes, possiamo avere parte di questi beni per meglio amarti e servirti. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo quest'esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Amen. Che Dio ci benedica, faccia risplendere il suo volto su di noi e ci dia la pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.